Anni fa una contadina che aveva il marito gravemente malato fece un voto di accendere ogni giorno una candela alla statua della Madonna che era nella chiesa del paese perché il marito guarisse. Tutte le mattine di buon'ora correva fino alla piazza dove c'era la chiesa, entrava, recitava un Ave Maria, un Padre Nostro, un Gloria al Padre e accendeva la candela. Così per giorni, giorni, mesi. Finché un giorno il marito guarì. Il giorno dopo la donna era molto indaffarata. Aveva tutta la casa da mettere a posto, quanti panni sporchi per guarire il marito, per curarlo giorno dopo giorno. E allora dice, senti, signore, oggi non ce la faccio andare in chiesa a accendere la candela. Ho un mucchio di cose da fare. Vado domani e ne accendo due. Il giorno successivo pioveva giù a dirotto. Guarda fuori dalla finestra e la signora fa, dai, signore, oggi non vado, mi bagno tutta. Domani ne accendo tre. E così, giorno dopo giorno dopo giorno, c'era sempre una scusa. Un giorno arrivò a cinquanta candele. E si disse, ma no, non posso andare con cinquanta candele in chiesa. Mi prenderebbero per pazza. Perciò decise di lasciar stare. Questa storia, ragazzi, è per introdurre il Vangelo di questa domenica. Quella donna cercava una grazia, ma una volta che l'aveva ottenuta, non si è più ricordata di Dio. Ha tralasciato l'incontro con lui tutti i giorni nella preghiera, ormai aveva ricevuto la grazia. Ci interessa più il dono o colui che ci fa un dono? Ci interessa più una guarigione o colui che ci guarisce? Il Vangelo è tutto lì. Perché parla di dieci lebrosi che, vedendo Gesù arrivare nel loro villaggio, erano emarginati, come tutti i lebrosi di allora. Dovevano andare in giro gridando «Allontanatevi, allontanatevi, che siamo lebrosi! Siamo contagiosi!» Vivevano nelle grotte, isolati da tutto e da tutti, eppure escono fuori. Ma non chiedono a Gesù di guarirlo, chiedono di avere compassione. «Abi pietà di noi, Signore!» Vedete, quando un vostro amico soffre, quando ha una malattia che non è soltanto un'influenza o il Covid, ma a volte è un brutto carattere per noi, è una malattia di un'altra, è un modo di fare che non ci piace assolutamente, che dobbiamo escluderlo, metterlo un po' da parte come se fosse lebroso. Riusciamo ad avere compassione di Lui, cioè patire con Lui, col Suo modo di essere, amarlo così come lo troviamo? Ecco, la differenza sta proprio lì. Quel giorno Gesù dice a questi dieci lebrosi «Andate dai sacerdoti» era un modo per riconoscere una guarigione, presentarsi dai sacerdoti, e loro si fidano di quella parola. Non chiedono un gesto, una bacchetta magica, una benedizione, niente di tutto questo, si fidano della parola di Gesù. «Andate!» E andando sulla strada, verso il Tempio, verso l'incontro con i sacerdoti, vengono guariti. Erano dieci, nove di loro spariscono, un po' come quella contadina. Uno torna indietro e si mette a ringraziare Gesù. E Gesù lo loda e dice «Ma non sono stati guariti tutti e dieci, solo uno viene a ringraziare e gli altri nove. Solo lui, che era uno straniero, un samaritano, viene a rendere gloria a Dio». Vedete, è più facile guarire la lebra, una malattia, o guarire l'ingratitudine. Quando non siamo capaci di ringraziare per quello che ci viene dato. Dalla colazione che ci prepara mamma al mattino, alla sera quando andiamo a letto e guarda caso, è tutto fatto quel letto e noi non ci abbiamo messo niente del nostro. Qualcuno ci ha pensato. e tante altre cose. A cominciare da ringraziare Dio per quel bellissimo mondo che ci ha donato. Vedete, noi possiamo fare come i primi nove, ricevere un dono e guardare al dono. Possiamo fare come il decimo, ricevere un dono e guardare a chi ci l'ha donato. Quando ricevete un dono, ragazzi, puntate gli occhi sul dono o puntate gli occhi sul volto che chi vi ha fatto quel dono. Perché qui sta la differenza. Altrimenti siamo come quei mendicanti che chiedono l'elemosina e non guardano mai in volto la persona che gli pone due monete. Guardano quanto gli ha dato. Guardano quanto è prezioso quel dono. quanto gli piace, quanto è importante per sé. Ma si dimenticano chi gliel'ha donato. Allora, ragazzi, abbiamo dei doni anche noi. Ve li ricordate? Voi che avete fatto la cresima o state preparando la cresima. I sette doni dello Spirito Santo? Ve li ricordate? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. Vedete? Anche questi. Possiamo viverli guardando il dono e allora li vivremo da egoisti o guardando chi ce l'ha donato. Sapienza significa avere sapore, gustare le cose che il buon Dio ci ha donato, a cominciare da questo nostro mondo, saper distinguere il bene dal male. Ma quante volte diciamo stupidaggini, sciocchezze? Eppure abbiamo la sapienza, non siamo stupidi, ma non ci ricordiamo più che ce l'ha donata e a volte la sviliamo. O quante volte l'intelletto, che significa leggere dentro, non fermarci all'apparenza, andare in profondità nelle cose della vita e anche nelle persone. E quante volte facciamo i saccenti? Vogliamo prevalere sugli altri? Io la so più lunga di te. Io quella domanda ho risposto, tu no. Guardiamo il dono, non chi ce l'ha donato. Il consiglio, ci permette di scoprire qual è la strada giusta per noi, quella che Dio ha desiderato sempre per la nostra vita. Saper decidere su cosa fare. E invece quante volte possiamo consigliare agli altri non il bene, ma il male. Abbiamo guardato il dono, abbiamo fatto un po' gli egocentrici, non vogliamo che gli altri ci superano e non abbiamo guardato a chi ci ha donato il consiglio. La fortezza? Essere forti nelle difficoltà della vita, con l'aiuto di Dio. Ma quante volte ci facciamo forti con i muscoli e vogliamo prevalere sugli altri? È più importante la fortezza fisica o la fortezza interiore? Guardiamo il dono o guardiamo chi ce l'ha donato? La scienza, la conoscenza, ma nell'amore, di tutto ciò che Dio ci ha dato. Comprendiamo le cose, noi stessi, gli altri. Ma quante volte pensiamo che tutto si spieghi con la scienza? Sì, tanto arriviamo dalle scimmie. E va bene. Forse può anche spiegarlo la fede da dove arriviamo, da Dio. Guardiamo solo il dono? Ci ha dato il buon Dio la capacità di approfondire il mondo, il creato, o guardiamo chi ce l'ha donato? La pietà, far conoscere ed amare Dio, un Dio misericordioso che non smette mai di amarci. Ma gli altri ogni tanto ci fanno un po' pietà, li mettiamo un po' da parte o vogliamo loro bene. Ci fanno pietà, guardo solo il dono, l'ho svilito. Gli vogliamo bene come ci vuole bene Dio, guardo chi ce l'ha dato. Il timor di Dio, che è il rispetto per Dio, per gli altri, non è la paura di Dio, è riconoscere che siamo Suoi, creature, è l'attenzione, è camminare in punta di piedi davanti a Dio. Ma a volte possiamo far paura agli altri, intimorirli, prenderli in giro, o possiamo andare in punta di piedi e avere rispetto di loro. Nove, guardano il dono. Non gli interessa chi gli ha fatto quel dono. solo ad uno gli interessa. Nove sono stati guariti, sanati, uno è anche stato salvato. e vi sono stati guariti, due non gli interessa. Secondo, ti sono stati guariti, ma, 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 Grazie a tutti.